Come in certe case accade, si pulisce mettendo la polvere sotto al tappeto. L'incipit del sindaco Marco Alessandrini ha la prima conferenza dedicata allo status delle casse comunali. La prima cattiva notizia ad inizio mandato è che le preoccupazioni mosse da Alessandrini ancora ai tempi della campagna elettorale erano più che fondate. Arriva infatti la notizia che i revisori dei conti abbiano dato parere non favorevole in merito al consuntivo 2013. Precisa il sindaco non era mai successo in tutta la storia del comune di Pescara. Il rendiconto bocciato dei revisori attiene all'anno fiscale precedente, il 2013. E questo mi sembra sia un chiaro segno di responsabilità politica, oltre che amministrativa e contabile. Naturalmente noi oggi discutiamo di questo, ma la roadmap per quanto attiene la necessaria e indispensabile operazione di chiarezza circa i conti di questo ente è la seguente. Oggi conferenza sul rendiconto e venerdì prossimo ci sarà un consiglio comunale in cui dovrà esservi una presa d'atto dello stato delle finanze che il sottoscritto si trova ad ereditare. Secondo l'analisi, in dettaglio, appesare e sballare il bilancio delle casse è la lunga trafila di residui attivi maturati dal comune. Per intenderci in parole più semplici, la differenza tra le entrate accertate e le entrate versate. Come a dire, soldi spesi senza invece averli incassati. Da qui poi l'altro punto critico. La vecchia amministrazione, per ovviare alla non disponibilità delle casse, ha fatto uso di fondi vincolati per le spese correnti, per un totale di 16 milioni di euro. Oggi Alessandrini apre ufficialmente le manovre correttive per fermare l'emorragia economica che rischia di ricadere sulle tasche dei cittadini. Consapevole del fatto che questo è un argomento assolutamente sensibile, intendo approcciarmi col massimo rigore possibile. È indispensabile avere un quadro il più dettagliato possibile, in quanto l'una o l'altra circostanza determinerà l'applicazione o meno delle previsioni del testo unico, che hanno naturalmente incidenze e rilievi differenti proprio sulla tassazione. Però finché il quadro non è definito, credo che sia opportuno sospendere ogni giudizio sul punto. Prima manovra messa in campo, spiega il neoassessore al bilancio, sarà quello di ottemperare al decreto legislativo 118 del 2012, quello che impone di non far spendere denaro pubblico ai comuni se le somme non sono effettivamente entrate nelle casse, anche se, secondo qualcuno, il rischio è quello di una paralisi generale del sistema.